La società... La società si merita solo odio, per tutto quello che ha fatto e anche di più. Fanculo tutti, uno per uno, per quanto ci hanno fatto soffrire. Però poi... Ci sono persone intorno a noi, ed è un'impresa, trovarle è raro. Persone che non riesci a odiare, è impossibile. Perché ti sono vicine anche se tu le disprezzi. E quelle davvero speciali sono... Decise e risolute. Puoi far loro qualunque cosa. Ti accettano. E ti sono vicine comunque. E non ti abbandonano. Anche se avrebbero tutti i motivi per farlo. Non lo fanno. Anche se tu le preghi e le implori di andarsene. Vuole sapere perché? Perché provano sentimenti per me che io non conosco. Mi vogliono bene. E per il dolore che ho provato. Questo è un sollievo. Forse non l'è all'istante. Magari dura solo poco tempo. Ma è un sollievo. E se... Ci sono battute dal resto e... Andiamo a puttane qualsiasi cosa. Ci feriamo a vicenda e facciamo un gran casino. Però siamo comunque noi. E in qualunque mondo si viva. E anche se... Ci hanno detto che non ce la faremo mai. Ancora siamo in piedi. Andiamo in pezzi. Ma continuiamo a tenere duro. E non è un difetto. È una particolarità. Quindi no. Non smetterò di avere fiducia nel mondo. E se non ne capisce il motivo. Allora mi faccio portavoce di tutti e dico anche a lei. Vaffanculo. Grazie.